Gli esseri umani sono praticamente ovunque, stanno qui, qui e anche qui, ma nonostante questo ci sono posti sulla terra che non sono stati mai esplorati o che comunque sono stati visitati da veramente poche persone. Nel video di oggi parleremo proprio di questi luoghi, quindi ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e detto questo cominciamo a parlare dei 5 luoghi mai visitati sulla terra. Il monte Everest riceve un sacco di attenzioni, ma c'è una montagna che nessuno ha mai scalato completamente. Sto parlando del Gang Harpensum, situata in Bhutan, il nome della montagna significa vetta bianca dei tre fratelli spirituali. Ovviamente qualcuno ha provato a scalarla, in particolare sono state fatte ben 4 spedizioni, fra il 1985 e il 1986, ma sfortunatamente nessuno è andata a buon fine a causa del tempo. Purtroppo non è più nemmeno possibile provarci perché dal 1994 è stato vietato scalare montagne più alte di 6.000 metri, per rispetto delle credenze degli abitanti della zona. Non è una sorpresa, le grotte sono probabilmente i luoghi meno esplorati della terra. Il motivo è semplice, sono difficili da trovare e difficili da esplorare. Per farvi capire, molto spesso le grotte subacquee sono prive di forme di vita, perché anche i pesci capiscono che forse non è proprio sicuro, diciamo. Le grotte dello Yucatan rientrano in questa categoria. La tribù dei Maya utilizzava queste grotte per fare sacrifici umani, e questa è solamente una mia idea ma probabilmente sfruttavano quelle enormi stalattiti. Nel luogo di cui parleremo adesso sono presenti degli esseri umani, ma non come li intendiamo noi. Infatti non hanno internet, non hanno whatsapp e non hanno mai visto gente con i risvoltini. Beati loro. Questo posto è Valdo Havari, in Brasile. Qui sono presenti alcune tribù indigene che non sono mai state in contatto con il mondo moderno. Il governo brasiliano ha reso illegale visitare questo luogo, in modo da lasciare in pace queste persone che vivono ancora come l'uomo prima della civilizzazione. Situato sulla costa ovest del Madagascar troviamo il parco nazionale del Zinghi de Bamaraja. Questo parco prende il nome dalla parola Zinghi, che nella lingua locale vuole dire il luogo dove non si può camminare scalzi. Il motivo mi sembra abbastanza ovvio, infatti penso che camminare qui sia peggio che farlo sui Lego, e fidatevi, ce ne vuole. L'area è rimasta inesplorata perché è veramente pericoloso cercare di arrampicarsi su queste rocce. La Star Mountains è una catena montuosa in Papua Nuova Guinea. Qui possiamo trovare il Heidenburg Wall, un alto piano formato da rocce calcare. La parte meno esplorata ha creato un proprio ecosistema, formato da flora e fauna mai visti prima. Si è stimato che su 11.000 specie viventi nella zona, almeno 100 non sono mai state documentate da nessun'altra parte al mondo. Oltre a questo è anche una delle zone più piovose sulla Terra. Infatti le precipitazioni sono circa di 10.000 mm all'anno, che per farvi capire sono oltre 10 volte quello che piove in Italia. Ed ecco ragazzi, questi erano 5 luoghi mai visitati sulla Terra. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi, condividetelo con i vostri amici e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.